Ci sono anche gli ultimi acquisti tra i convocati di Martuscello per la gara di domani a Mantova. Stojanovic, che ha scelto la maglia numero 30, si aggregherà al gruppo direttamente nella sede del ritiro prepartita. Questa mattina erano in campo Torregrossa, che ha scelto la numero 10, Ferrari, che prenderà il 33, e Russic, che gara la maglia numero 8. Non sono stati convocati Soriano e Maggiore ancora in box, come Reina, Delaide, Ghiglione e Dalmonte, oltre allo squalificato Callon. Per la gara di Mantova, Martuscello potrebbe già pensare a qualche debutto lampo. Gli Arosischi, che avrà la maglia numero 44, e Ferrari potrebbero portare esperienza in difesa, mentre a destra, partito Daniluc, stamattina è stato particolarmente sollecitato gentile. Dalla cintola in su si dovrebbe andare sulla via della continuità, con teglio e tonghi ai lati di Ematucci e Verde e Valencia a supporto di Simi. Ora Martuscello ha più soluzioni in attacco, visto che Torregrossa e Volarcik sono disponibili e potranno trovare spazio in corsa. Fischio d'inizio alle 20.30, direzione di gara affidata ad Abisso. Sugli spalti ci saranno circa 1000 tifosi di Granata pronti a spingere la squadra alla conquista dei primi punti esterni stagionali.